Rimandati a maggio, l'ultima giornata della regular season offre un destino comune a potenze Virtus Francavilla. Lo 0-0 del Viviani porta a braccetto entrambe i play-out. Se per gli imperiali la strada era pressoché segnata, a deludere le aspettative sono i Lucani, condannati anche dall'acuto sul gong del Monterosi e dal successo esterno della Turris. Vincere per non dover far calcoli. La prima stagionale al Viviani per De Giorgio è un'autentica partita della vita. Potenza in campo con il 3-5-2 guidato da Caturano e Di Grazia. Steffè fa le veci dello squalificato schiattarella a centrocampo. Out anche Mazzeo, Verengia e Asensio. Basta un punto per avere la garanzia di disputa del play-out. Facile a dirsi, meno a farsi visto le sette sconfitte consecutive, lontano da casa per la Virtus. Villa conferma per 10 undicesimi la squadra che ha fatto bene con la Juve Stabia. La novità è in grosso in fascia. Di Marco spostato al centro e Macca in panchina. In avanti con Artistico tocca ancora Neglia. Non granché agonisticamente la partita. Il corner arriva sui piedi di Steffè che calcia altissimo sulla testa di Branduani. Ancora potenza, ancora da corner. Questa volta la palla arriva sulla testa di Sbraga che schiaccia troppo la parabola. Il primo a fondo della Virtus è un invito in profondità per Artistico. L'attaccante riesce a calciare ma non fa meglio di così. Serrano i ranghi gli ospiti per difendere il punticino che vale il play-out. La ripresa è aperta da questa bella diagonale di Biondi su Volpe. Schierato, questo oggi a tutta fascia. Dagli altri campi arrivano brutte notizie con le vittorie parziali di Turis, Monopoli e Catania. Artistico prova ad arrecare ulteriore dolore al potenza ma Sbraga si rifugia in corner. Triplo cambio per De Giorgio con Ristov, Castorani e Rossetti. Esaporiti ad andare al tiro al 66esimo. Il pallone però finisce abbondantemente alto. Salvo al momento, grazie al pari del Monterosi, il potenza deve evitare rischi. Lex Castorani si mette in proprio ma il suo sinistro finisce alto. Bella combinazione e l'arrivo in grosso dall'altro lato del campo. Lex Nardò, Sferrel, Rasoterra, ma Zosmanovic è attento in copertura. Da Monterosi arriva la notizia del vantaggio dei laziali. Potenza, virtualmente al play-out, è costretto a vincere. A trazione anteriore, i Lucani non vanno vicini al bersaglio con Rossetti. La grande chance di salvezza arriva nel recupero. Maestro aggancia, resiste e calcia, facendo correre un brivido da retrocessione diretta sulla schiera di Branduani. Pall'out di nulla. Termina con uno scialbo 0-0 che è una mazzata per il Potenza. I Lucani, per la prima volta nella loro storia, disputeranno il play-out proprio contro il Monterosi-Tuscia, destino analogo per la Virtus che resta davanti ai laziali in virtù degli scontri diretti e se la vedrà in posizione di sfavore contro il Monopoli. Si torna in campo dunque il 12 maggio con le sfide di andata Monterosi-Potenza e Francavilla-Monopoli. La grossa novità per queste fasi finali è rappresentata dalla presenza del Val a Bordo Campo.